Musica Si prendeva la testa tra le mani e rimaneva immobile in ascolto religioso per la durata esatta del brano Siete sicura di quello che state facendo? La memoria di questo orrore va cancellata Voi e il dottore St. Clever avete usato Robert per i vostri esperimenti L'avete trattato come una cavia, come un animale, come carne da masser Vi prego di calmarvi Siete soddisfatto del risultato? Guardatelo! Non mi sembra un granché Maestro orrore Non ci sono riusciti in voi Ti darò un piccolo premio di consumazione Ti svelerò tre segreti Il primo è ogni punto del tempo Giace sotto una circonferenza immobile Giace sotto una circonferenza immobile Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!